Come avere piante più belle, piante più floride. Ecco oggi voglio spiegarvi semplicemente come riuscite ad avere piante più floride, più belle, più esteticamente gradevoli, ma soprattutto ben cresciute. Noi tutti possediamo un liquido che per noi è una forma di scarto, si chiama urina. Ebbene, voi non potete immaginare, ma l'urina, cioè la sostanza di scarto che noi andiamo ad emettere, in realtà è una sostanza di grande potenzialità, soprattutto per le nostre amiche piante. Perché? Perché contiene una quantità impressionante di sostanze nutritive molto utili per le piante. Le sostanze che possiedono sono l'urea o urea, i tritogeni, va bene? E vi ricordo proprio che l'urina è un ottimo fertilizzante. Infatti basta mettere, diciamo così, mettere o meglio inserire l'urina proprio nelle piante, che in qualche maniera le vostre piante riusciranno a crescere meglio, più forti e quindi più rinforzate. L'urina inoltre contiene l'azoto, il potassio, il fosforo e altri nutrienti fondamentali che vanno a favorire la crescita delle piante. Quindi per avere piante più belle, cresciute e più floride, basta utilizzare l'urina. L'urina è un ottimo consieme, vi consiglio di utilizzarla, anche perché tutti gli esseri umani emettono giustamente urina. Iscrivervi al canale, narratore italiano, commentate. Un caso di saluto a voi, e al prossimo video.